I mercati azionari sono arrivati ai massimi o possono continuare a crescere ancora? Quali sono i settori migliori in questo momento su cui investire? Quali sono le asset class su cui conviene investire in questo momento? Quali sono i titoli azionari migliori in questo momento? Per rispondere a queste domande, Diamant ha sviluppato una newsletter che vi permette di analizzare i mercati finanziari, vi permette di capire il grado di turbolenza dei mercati finanziari, vi permette di analizzare i migliori settori del momento, vi permette di avere la lista dei migliori 10 titoli secondo i modelli Value, la lista dei migliori 10 titoli secondo i modelli Growth, sia per il mercato europeo che per il mercato italiano. Sono selezionati con dei modelli quantitativi, se vuoi sapere come funzionano questi modelli ti invito a scaricare l'ebook sulla pagina newsletter.diamant.it dove potrai vedere anche un esempio di come funziona questo newsletter e dove potrai capire come abbonarti, non perdere questa occasione. Grazie a tutti!